Sarebbe stato individuato il presunto autore dell'incendio che ha danneggiato sabato sera uno dei portoni del settecentesco Palazzo Gagliardi di Vibo Valencia. Si tratta di un minore che nella giornata di ieri si è presentato nella caserma dei carabinieri accompagnato dal padre. Il clamore mediatico e le immagini delle telecamere, secondo quanto si è potuto apprendere, avrebbero fatto prendere coscienza sulla gravità dell'accaduto al giovanissimo studente, inducendolo a raccontare tutta la vicenda, dapprima al genitore e successivamente al personale dell'arma. Sempre secondo quanto è possibile apprendere, non vi sarebbero motivazioni particolari dietro al gesto, ma lo stesso minore avrebbe ricondotto tutto ad una bravata, circostanza che col passare delle ore aveva preso sempre più credibilità. Molto probabilmente nei confronti del ragazzo sarà stata inoltrata una segnalazione al tribunale dei minorenni.